Le prime lettere di licenziamento sono già arrivate. Un dramma per i 45 infermieri in esubero della ex cattolica di Campobasso. I provvedimenti saranno efficaci comunque dal 1 novembre, 90 giorni dopo il 1 agosto. Lo spazio temporale per risolvere c'è, bisogna capire se c'è anche la volontà. Per fare il punto sul fronte occupazionale l'assessore al lavoro Michele Petraroia ha convocato i sindacati. I sindacati hanno ragione, esiste la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga. Loro lo hanno chiesto espressamente in una comunicazione che ci è pervenuta il 12 di luglio e stamattina noi riprenderemo la proposta delle organizzazioni sindacali e la avanzeremo alla fondazione. Non nascondo anche una certa sorpresa. Io non credo che si possa essere poco attenti anche ai diritti dei lavoratori. Quanto un'azienda ricorre al licenziamento è perché prima ha verificato che non esiste nessuna altra ipotesi possibile. Poi dunque Petraroia insieme al subcommissario Nicola Rosato ha incontrato anche i vettici della fondazione Giovanni Paolo II. Il direttore generale Rastelli gli ha rappresentato la situazione di difficoltà di bilancio già valutata dal CDA. Dal Brasile dove si trova con la delegazione molisana per la giornata mondiale della gioventù il Vescovo di Campobasso e presidente della commissione CEI per il lavoro Giancarlo Bregantini prega per il futuro del centro. Invita tutti anche la politica ad uno scatto di coraggio e torna ad indicare invece la strada dei contratti di solidarietà. Con l'impegno di tutti e la rinuncia parziale ma temporanea di parte dello stipendio affinché tutti possano lavorare afferma l'Arcivescovo potranno essere evitati i licenziamenti, rilanciati gli investimenti ridato al volto della fondazione quella luce di qualità che ha sempre mantenuto e che è speranza concreta e certa per tanti malati molisani e per l'intero centro-sud.